Ragazzi, buona serata a tutti! Allora, iscriviti sotto cazzo, perché qua mi vengono fuori le cose, iscriviti... Vaffanculo, no, non voglio iscrivermi. Allora, questo è un comunicato che adesso non è ancora presente nel sito dell'UEFA, l'hanno semplicemente girato ai media probabilmente, e comunque probabilmente verrà fuori nei prossimi giorni, non so. Comunque, l'UEFA ha comunicato, questo è un articolo di gol.com, l'emittente per la quale, ad esempio, scrive Romeo Agresti, quindi sicuramente non è l'ultima arrivata, l'UEFA ha comunicato di aver fermato il procedimento avviato lo scorso 25 maggio nei confronti dei club membri della Superlega. Questo è l'articolo, questo è il comunicato. A seguito dell'apertura di un procedimento disciplinare contro FC Barcellona, Real Madrid e Juventus FC per una potenziale violazione delle norme UEFA legata al cosiddetto progetto Superlega, la corte d'appello dell'UEFA ha deciso di sospendere provvisoriamente il procedimento fino a nuovo ordine. Tempeste, tempeste di merde, tempeste di merde, nel senso che comunque qua se la stanno facendo un po' tutti addosso, come l'altro fenomeno, fenomeno nella live là, quando sono stato ospite, che mi diceva il fenomeno interista, eh l'UEFA è troppo più potente, non potente, non possono, eh, avete violato, sto cazzo abbiamo violato, sto cazzo, ok? Bene. Detto questo, detto questo, sono non contento perché non sono neanche sorpreso, perché sapevo che sarebbe andata così. Piccola premessa, anche qualora dovesse decidere l'UEFA di riaprire il procedimento domani, comunque sarebbe e andrebbe in sospensiva, quindi, perché ci sarebbe ricosso al TAS e quant'altro, che ci vorranno almeno 90 giorni e quindi la prossima Champions League la Juventus comunque la farà, ok? Giusto per farvi stare tranquilli. Comunque, al di là di questo, al di là di questo, sta il fatto che se voi guardate tutte le emittenti, tutte diciamo non emittenti, tutte, eh, tutti i tribunali ordinari che si sono, eh, diciamo, esposti, diciamo così, o comunque che hanno detto la propria, ok? O con sentenzo, pre-sentenzo o comunque pre-avvisi e quant'altro, sono andati tutti, ok? Tutti questi tribunali sono andati tutti a favore delle tre squadre contro l'UEFA. Adesso la Corte, vabbè, dell'Unione Europea dovrà comunque decidere nei prossimi 7-11 mesi, quindi figuriamoci quanto cazzo ci vorrà, e il TAS ci sarà, questo ricorso e quant'altro, ma perché hanno ritirato questa cosa qui? Perché sanno benissimo che qualora avessero squalificato le tre squadre, e loro hanno probabilmente qualche, più di un dubbio, cioè quasi la certezza, che qualora squalificassero le tre squadre, e poi venissero, eh, diciamo, assolte, e venisse condannata l'UEFA nel tribunale ordinario del TAS di Lausanna o della Corte Europea, l'UEFA dovrebbe, ehm, diciamo, risarcire di molti, 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 molti milioni di euro, non solo i tre club, probabilmente non so se anche gli altri nove, ma non lo so, anche se sono ancora dentro la Super League, non solo i tre club, ma anche ovviamente la JP Morgan, anche l'altra società che comunque ha sponsorizzato questa Super League, quindi l'UEFA dovrebbe veramente risarcire di non so quanti milioni di euro, quindi per cautelarsi hanno ritirato questa indagine, ok, questo procedimento e questo provvedimento, chiamatelo come volete, sta di fatto che Cefering, oggi Pratini ha detto una cosa giusta, ha fatto le sue stronzate, però Pratini ha detto queste squadre hanno tutto il diritto di decidere di crearsi una nuova federazione, ma siccome poi era solo un'ipotesi, era solo un, per andare al confronto, perché l'UEFA non ha mai ascoltato i club, e quindi l'unica cosa che potevano fare era mettere l'UEFA con le spalle al muro, poi è venuta fuori anche il discorso della Premier adesso, che hanno fatto questa norma qui, però poi andrebbe a decadere pure a quella norma, anche se sono fuori dall'Unione Europea, però non possono fare comunque il cazzo che vogliono, perché comunque sono dentro l'Europa e quindi non possono fare il cazzo che vogliono, quindi soprattutto quando si parla di monopolio e quant'altro, e di decisioni democratiche, che dovrebbero essere democratiche, ma molte volte prendiamo per sottinteso questa cosa qui, ma non lo è, evidentemente, quindi qualora il TAS, la Corte Europea o quant'altro, insomma, dovesse dare ragione a questi tre club, probabilmente anche quella carta, come la norma FIGC, anche la norma della Premier League sarebbe carta straccia, e quindi verrebbe stracciata il giorno dopo, ok? Detto questo, adesso possono fare le norme che vogliono l'UEFA, la FIGC, la Premier, quel cazzo che vogliono, le fei, quel cazzo che vogliono, ma se poi il tribunale ordinario, perché è vero che vanno in due, diciamo, hanno due metri di giudizio diversi, giustizia sportiva ordinaria, però la giustizia ordinaria viene sempre prima della giustizia sportiva, se tu vai contro al monopolio, vai contro al, diciamo, alla possibilità alla concorrenza, no? Alla possibilità di avere concorrenza e pro monopolio, comunque, la giustizia ordinaria interviene e non c'è cazzo che tenga, punto, comunque, questo è tutto il fatto, e sono contento, ma ero quasi sicuro che poi sarebbe andata così, adesso, la prossima Champions League la Juventus certamente, sicuramente, al 100% la farà, poi vedremo per la prossima stagione, sicuramente si potrà andare, potranno andare per vie legali per mesi, 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 se non per anni, si auspica questa cosa qui, a meno che Ceferin non venga, diciamo, tagliato fuori dall'UEFA prima e che cerchino, insomma, compromessi, come ha detto Roberto Carlos, io compromessi non li cercherei, non li accetterei, nel senso che io voglio fare la Super League e nel caso possiamo metterci d'accordo che comunque ci guadagniamo entrambi, allora è un discorso, ma rinunciare alla Super League perché questo perché l'altro, allora no, tutto lì, ok? Detto questo, fatemi sapere la vostra, anche perché la Super League comunque prevedeva fondi di solidarietà maggiori rispetto all'UEFA e poi prevedeva vantaggi per i tifosi che si muovevano, che si sarebbero mossi all'estero per seguire la propria squadra e tante altre cose che non vi hanno menzionato però che c'erano sul contratto e non hanno dato la possibilità a questi club di spiegare cosa rappresentava, cosa avrebbe rappresentato e cosa potrà magari rappresentare in futuro la Super League. Questa cosa non ve l'hanno, cioè, non hanno dato la possibilità a questi club, ai club della Super League di spiegarla, speriamo che in futuro riescano. Detto questo, l'UEFA per il momento, poi ripeto, si vedrà in futuro e quant'altro, però per il momento si è cagata addosso, poco a fare e per il momento quelli che erano sicuri anche perché l'UEFA è così tanto potente e non riesce in un mese a squalificarle, le squadre, evidentemente non è proprio come dite voi. Evidentemente questi club quando si sono mossi sei anni fa, quando l'hanno presentata quest'anno, anche se magari sono stati costretti a presentarla così velocemente perché magari qualcuno aveva spifferato di questa cosa qui però sapevano di cosa sarebbero andati incontro e sicuramente si erano tutelati alle spalle con le giuste misure e non sono stati sproveduti come qualcuno ha fatto passare qui su YouTube in generale e quant'altro quindi io sono sempre stato tranquillo sotto questa situazione perché a parte Agnelli c'è Perez ci sono fiori di avvocati l'unico che praticamente con la legge Bosman vinse contro l'UEFA non solo per quel caso ma anche per casi inferiori quindi io sotto questo aspetto sono veramente tranquillo perché l'UEFA è stato dimostrato ancora una volta che l'UEFA non è legge ok se l'UEFA sbaglia si può vincere contro l'UEFA tranquillamente bene vediamo se questo bulletto qua smetterà di fare il bulletto vedremo tanto si è cagato addosso ha fatto il petto grande offendo di qua di là minaccio riccato e quant'altro poi alla prima diciamo non minaccia ma al primo provvedimento disciplinare o comunque al primo avviso perché sanno benissimo nell'UEFA e anche nella FIFA che per me si è già tirata fuori che qualora andassero avanti e squalificassero le tre squadre lo ripeto e poi venissero assolte e venisse poi condannata di fatto in tribunale l'UEFA l'UEFA Caput Mundi ok detto questo no il cazzo Caput Mundi Caput nel senso che proprio Sebe è finita comunque detto questo fino alla fine forza Juventus e niente niente lo siete presi un'altra volta nel culo quelli che esultavano già la Champions la Juve non farà la Champions quant'altro sono gli stessi che criticavano Super League perché era poco meritocratica ma di fatto la maggior parte di questi sono anche al di là dei napoletani che vabbè non fanno testo diciamo ed erano anche interisti gli stessi che di fatto parlano di meritocrazia e poi festeggevano uno scudetto non vinto sul campo Auf Wiedersehen